ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata allora tanto scusate per il ritardo con cui vi do l'aggiornamento della quinta della quinta tappa purtroppo ieri sono stato veramente preso e non sono riuscito a fare prima questo questo video allora la tappa è andava da al ula a ha il credo insomma di averlo pronunciato nel modo corretto e i chilometri sono 564 di cui 353 chilometri sono tutti di speciale finalmente arrivano le dune per cui arrivano e vengono fuori proprio gli specialisti proprio il 62 per cento del percorso è sabbia un 23 per cento terra 15 per cento pietra parte corneco florimo perché ieri il giorno prima due giorni fa la quarta tappa ha vinto appunto la tappa per cui parte parte primo ma al primo checkpoint arriva mattias walkner che è austriaco con la ktm seguito da benavides e price per cui qua si intravede subito che price sta nelle prime posizioni e terzo per cui sta andando sta andando molto bene tra l'altro ross branch sta andando ross branch quello del bozzuana con una ktm privata sta andando benissimo questo è ancora più incredibile la quarta tappa è arrivata addirittura terzo poi ha vinto una tappa sta facendo una dar una gara veramente fuori impressionante considerando oltretutto che è un tombino perché perché poveraccio anche dalla statura non è che che ha aiutato allora al al chilometro 187 succede qualcosa di importante purtroppo cade sam sanderland con con la ktm l'inglese e deve abbandonare la gara purtroppo ha subito una una colpitura alla schiena e alla spalla sinistra noi naturalmente ci auguriamo che non sia nulla di non sia nulla di grave peccato sam sanderland stava facendo una una bella performance stava veramente andando andando bene veramente un peccato quando quando si ritirano no cioè è bello se si arrivano a un fondo non certo con una con una caduta così questo dispiace dispiace veramente ecco alla fine della gara toby price riesce a vincere quindi sì ecco toby price è uno specialista soprattutto delle dune per cui qui ne viene viene fuori ecco la la sua bravura per cui arriva primo toby price secondo arriva pablo quintaniglia del del cile con con usquarna per cui primo toby price dall'australia con ktm poi pablo quintaniglia con l'usquarna poi arriva un nuovo una new entry chiamiamola così andrew short che è uno degli stati uniti su usquarna ecco è un ragazzo giovane un metro e 78 d'altezza 71 chili per cui insomma una una statura normale ecco quarto arriva il leader poi della classifica generale che è ricky brave che sempre dagli stati uniti su onda poi c'è mattias walkner che è dell'austria dell'austria con ktm john barreda spagna sempre con con onda ross branche il grandissimo ross branche del bozzuana io è chiaro che io tengo per io tengo per questo qui è perché è un grande veramente e appunto ktm non ufficiale luciano benavides dell'argentina con ktm ottavo e subito dopo il fratello questo è un fatto fatto insomma particolare kevin benavides con con onda per cui sono due fratelli uno è con ktm l'altro è con con onda uno arriva ottavo l'altro arriva nono paolo con sa paolo consalvese dal portogallo quindi insomma un altro europeo alla con con un altro team con un altro team particolare che arriva con la chiro con un'altra con un'altra con una moto che io tra l'altro non è come vi ho già detto non conoscevo per cui ecco la classifica generale richi brave che è sempre primo con la onda e a 9 minuti e 6 secondi per cui pochissimo da toby price che è fortissimo che è il vincente quello che ha vinto l'altro anno dall'australia kevin benavides segue con 11 minuti e 32 secondi l'argentino con la onda poi abbiamo pablo quintaniglia 16 16 minuti con usquarna ecco pablo quintaniglia viene dal cile e corneco florimo corneco florimo e segue con 20 con 20 minuti con la onda per cui anche ecco anche lui è lì vicino insomma ecco 20 minuti alla parigi dacare non è che sono che sono tantissimi per cui ecco sta andando avanti la sta andando avanti la la gara ecco sicuramente toby price è una insomma è uno dei candidati no con 9 minuti e 6 secondi a vincere c'è un team fortissimo che ha vinto negli ultimi 18 parigi dacare io l'ho visto visto che stava che stava tornando stava avanzando è proprio nelle ultime tappe stava andando veramente bene poi era partito bene alla prima alla prima tappa per cui sicuramente è uno dei candidati più probabili per poter vincere ecco quello che vediamo è che nelle prime cinque posizioni abbiamo per ora una onda abbiamo due onda no abbiamo tre onda e abbiamo una ktm una osquarna ecco anche se poi ktm osquarna poi di fatto sono la stessa sono la stessa insomma è la stessa azienda insomma ecco la moto sarà quella mi immagino poi chiaramente sono due team diversi però sono tutte e due ufficiali per cui ecco questa è un po la la situazione ora del momento poi stasera cercherò di ora in questo momento qui si sta sta andando la c'è la partecipazione della sesta della sesta gara per cui stasera spero di potervi dare un altro aggiornamento per cui se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci si vede alla prossima puntata ciao a tutti